Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. La primavera del Napoli è salva, conserva la serie A della categoria e programma la prossima stagione con la Youth League e anche la squadra Under 18 che farà da cuscinetto per i ragazzi classe 2005. Dopo il 2-2 dell'andata il pubblico risponde benissimo, a cercola gli spalti sono gremiti e c'è anche una rappresentanza della curva B a sostenere gli azzurrini. L'inizio gara è contratto, al terzo minuto tira Besaggio, blocca i Dasiak. Al diciannovesimo attacca ancora il Genoa, cross dalla destra, deviazione di Costanzo. Il pallone arriva a Buxa che scivola al momento del tiro e la conclusione termina alta sopra la traversa. Al 22esimo Besaggio va al cross, a campo anticipa Ambrosini, sul proseguo dell'azione, macca calcia fuori sull'esterno della rete. Il Napoli alla prima palla goal in pieno recupero, al 47esimo, cross dalla destra di D'Agostino. Vergara serve pesce che da ottima posizione di sinistro spedisce il pallone alto sopra la traversa. Nella ripresa parte meglio il Genoa, al 52esimo punizione dalla sinistra di Besaggio. Stacca Gini che di testa manda il pallone fuori a pochi passi dai Dasiak. Gol sbagliato, gol subito. Mentre Fustalupi prepara l'ingresso di Ambrosino, arriva il colpo di testa di Colisaco che sblocca il risultato e manda il pubblico invisibilio. Il Napoli sulle aie dell'entusiasmo spinge ancora, al 57esimo D'Agostino va al cross basso ma non trova nessun compagno in area di rigore pronto ad impattare la sfera. Colisaco crossa al centro, il colpo di testa di Ambrosino è centrale e blocca Corci. Marchisano appena entrato al 65esimo propizia il rigore del 2-0 e su il cross che porta il fallo di mano in area di Gini e calcio di rigore. Dà il dischetto Vambrosino e batte Corci. Il Genoa non molla e attacca per riaprire la partita. Al 79esimo Dasiak si oppone con i pugni al cross dalla destra e ciude anche lo spazio a Bamba, opponendosi al suo tiro. Al 90esimo il Genoa ha la grande chance per infiammare i 5 minuti di recupero. L'arbitro Angelucci assegna il rigore per il contatto Idasiak-Bocci che sembra anche non esserci. Dà il dischetto Vabbesaggio ma Idasiak si supera, si distende e respinge il tiro dagli 11 metri. È la parata che ciude i discorsi, arriva il tripice fischio e comincia la festa per una salvezza meritata. Dopo 40 punti nella regular season è il successo al play-out contro il Genoa.